A Sorso, una zona abbandonata e incolta sarà trasformata in un parco urbano. L'amministrazione comunale, dopo l'acquisizione dell'aria, inizia a dare forma al progetto attraverso un percorso di realizzazione di un parco che occuperà un'aria molto vasta. Da grande spiazzo sterlato è incolto a parco urbano. L'idea dell'amministrazione comunale, che dopo l'acquisizione dell'aria avvenuta a fine 2020 ha preso forma progettuale e definitiva solo pochi mesi fa, con l'approvazione del progetto esecutivo. Inizia oggi il suo percorso di realizzazione concreta. L'amministrazione comunale, rispettando pienamente il cronoprogramma stingente che si era data, è riuscita a portare a termine tutte le complesse procedure. Per arrivare a tempo record, all'avvio dei lavori di realizzazione del più grande e moderno parco della città che si estenderà su un'area di 2,5 ettari, ricompresa tra il parcheggio del cimitero comunale Via Marina e i terreni già di proprietà dell'ente, sui quali insistono gli uffici dei servizi sociali, con l'annessa palestra di Via Desi e l'RSA. Verrà consegnato quindi alla fruibilità dell'intera comunità, entro un anno al massimo dell'inizio dei lavori, un impianto polifunzionale nel cuore della città, per il tempo libero e per molteplici usi culturali e sociali.